Ma che cazzo è? Guarda, prendo la scoppa, ti faccio vedere che cazzo è. Te lo faccio vedere. Se sta facendo qualcosa, sono io adesso. Perché ho lasciato il bicchieri lì, sono coltello. No, perché ho pensato che potete aspettare. Ti guarda, è una sbietetta adesso. Ti devo aspettare. Va bene, lascia un'acqua, sai che ti fa stiore. E non si può attendere quello. Senti, Gianmarco, facciamo le prove con il tavolo qui, prima di farla tagliate. Per lavare, cosa puoi lavare? No, ma non le metto. No, ma non le metto. Non le metto, sì, sì, poi tanto io devo ritirlo. Però no, ma le suono. Non lo devo mettere in un muro che si vede che, ok, lo metto. Sì, sì. Non solo, perché se vuole che sia un arraio, è un pulizzo. Sì, certo, può essere un arraio, è un pulizzo. Puede che sono in giro, sono a sport. Ho messo, no, per pulizzo, perché adesso... Non lo so, questo colmaggio è troppo fresco. Non si taglia. Cosa vuoi fare? Lasciare il pezzo così? Vuoi vedere che lo taglio? Sì. Guarda, si fa così, guarda. Si fa così? No, aspetta. Non so come lo taglio. Anche che fare così, si fa così, no? No. No, 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 lo metto. Ma cubetti voi? Vuoi cubetti, ti faccio cubetti. Vedi quello ciccerone, non c'è pulito, questo non è crosta. Eh, non so cosa dire qui. Eh, non è crosta. Non c'è pulito. Non c'è pulito. E poi? E poi? E poi. Poi sì. E poi? Perché lo dovevi pulire prima. Ho già pulito ho detto, non c'è crosta. Adesso ci dobbiamo andare a prendere un tavolino. Come ha fatto a metterlo così in equilibrio? Giamacco. E il tavolino me lo prendete o no? Giamacco. Ciao. 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 Grazie a tutti